ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco musri lan lavorato i reabu e tanto ultimo aggiornamento 11 aprile 2022 cosa musri lan confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere musri lan durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cos'è musri lan musri lan è un farmaco a base del principio attivo suxamettonio cloruro appartenente alla categoria degli mio rilassanti e nello specifico derivati della colina è commercializzato in italia dall'azienda lavorato i reabu e tant musri lan può essere prescritto con ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile confezioni musri lan di ec mg barra ml soluzione iniettabile in 10 siring pre riempite in pipiva 10 ml senza ago informazioni commerciali sulla prescrizione titolare laborato i reabu e tant ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile classe c principio attivo suxamettonio cloruro gruppo terapeutico mio rilassanti forma farmaceutica soluzione uso interno fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato